Eccoci qua in macchina per andare a prendere i ragazzi che tornano dall'Irlanda che hanno finito il progetto MOVE 2.0. Siamo diretti a Venezia. Quanti gradi ci sono? 26 gradi. Laera purene Anticinio. Ladies and gentlemen, you are very welcome to Venice where local time is coming up to quarter to 11. Grazie a tutti Grazie a tutti